buongiorno allora sempre carlo mattini semestrani questo è l'abanero green novità 2020 che succede green vuol dire verde come vedete la classica pianta dell'abanero molto grossa alta più o meno un metro e come tutti gli abaneri con un raccolto riguaglioso cosa succede a questa varietà detta green cioè verde che quando sono maturi ad esempio questo vedete assume questo colore che sembra quasi beige un cioccolato stinto è interessante come sapore perché diciamo ogni colore ha una sua caratteristica tipica il cioccolato c'è quel gusto un po amaro un po affumicato che va bene per la carne il giallo quel fruttato che di solito va bene per giallo e bianco per piatti vegetariani o di pesce ecco il verde è neutro cioè è una piccantezza neutra per cui per me va bene un po su tutto e quindi ecco qua di un altro questo ancora un'altra pianta ecco la bella qua guardate che bell'esemplare ecco questo è l'abanero green di semi strani a una maturazione direi perfetta e con questo è tutto arrivederci